Le chiedo un giudizio su Bremer e se è un difensore che le piacerebbe allenare, grazie. Ho mi fatti dare giudizio sugli altri giocatori perché i giocatori mi ha insegnato, Fabio Capello, una volta mi portò un esempio, un giocatore che lui quando andò a allenare il Real Madrid non gli piaceva. Mi ricordo se non sbaglio era ridondo, arrivò al Real Madrid e giocava sempre con lui. I giocatori vanno allenati per dare un giudizio perché dall'esterno è un giudizio, ma è un giudizio più superficiale di quando lo alleni.